musica musica you speak English? yes signore scusa un caluto lavoro in genere ma va capurne e va a cantare a tu si prova basta poco allora ragazzi siamo un'altra puntata però vogliamo fare una cosa se il nostro cante Lucio riesce ad arrivare ragazze buongiorno 50 gradi ragazzi ci sono non riusciamo a non parte non parte vabbè vediamo più tardi intanto siamo sempre qua vieni qua Gioia vieni qua passiamo da questa parte qui intanto ringraziamo questo Lido che ci ha accolto benissimo si chiama il Lido Blanca Beach Blanca Blanca Beach ci ha accolto alla grande ragazzi quindi segnaliamo abbiamo siamo sempre con il nostro amico e oggi vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua mamma ragazzi che caldo allora questa è la parte che vieni qua e oggi eccoci allora peccato che non abbiamo visto questa vabbè ma non ne parliamo più non ne parliamo più possiamo anche vedere tropea dal basso ecco ecco qua lo facciamo questa cosa molto importante caro cari amici degli spettatori state vedendo qualche replica ogni tanto perché voi lo 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 volete eppure anche noi per riposare una poco no è chiaro però tante puntate che non sono viste guarda stai iniziando a volare ecco la ecco la lucio vai vai grande lucio guarda come siamo spettacolo ragazzi eh buona estate adesso vi facciamo vedere poi adesso poi poi eh ragazzi n'è già buona n'è già allora adesso andiamo dalla esa parte che come è fatto il libro con uno corso uno è fatto per la miseria con beugenio grande musicista sì sì l'abbiamo già detto ma poi tengo un costume non ti preoccupare che cade il pantalone buongiorno fa caldo eh molto molto di dove è lei? Bologna allora ragazzi come vi trovate qui in questa domanda bene bene molto bella sì il cagnolino soffre il caldo eh un po' sì un po' sì però quando sei in vacanza si sta bene se le dico Calabria che le viene in mente subito Calabria piccante bella questa bella 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 da quale tempo viene in Calabria? è il primo anno primo anno verrà di nuovo? ma direi di sì direi già direi vediamo vediamo sì venite venite allora ragazzi intanto tant'agione che sta arrivando tu ti chiami sempre Antonella ora facciamo una canzone bella bella che siamo da solo da solo ecco dai ecco aspetta oh ragazzi dai pure tu Pino però ma che ti pure tu che sei sbunato vai 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 non lo so fare io ecco guarda è bravente ragazzi hai visto? gruppo folk città di tropea tieni qua lei vai vai tu ti voglio vedere dimmi l'appuntamento allora il 19 e 20 di agosto quindi fra qualche giorno ci sarà la sesta edizione di culture a confronto vengono quest'anno sei nazioni di tutto il mondo sono venuti dall'Australia dal Madagascar quest'anno verrà la Francia quanti ricordi quale sono? Messico Porto Rico Columbia Porto Rico Porta Giovanni Porta Francesco Porta Tu Porto Ercole Porte Qua i giovani i giovani li tassavano I moreni ragazzi allora vediamo invece la ginda che arriva sulla spiaggia sei che scroppalo che ha pegato questo è tropea dall'altra parte come si chiama? la rupe di tropea la rupe di tropea ademi spiaggia si 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 vergognano si vergognano a me c'è una pulmona si è stancata buggerdo sta morendo che non è pur di dare l'anima guarda che non si arrende allora invece adesso questo è l'altro luogo dove siamo partiti e chiamiamo da un'altra parte intanto Lucio guarda là che bella immagine ragazzi questa è la rupa abbiamo detto ci scendiamo da qua tieni qua tieni qua se no parla brutto che poi dici che è una bibbia di energizzante avete capito? sono un'ora e mezza che stiamo leggendo andiamo da qua a volte anche le immagini parlano da sole buongiorno le immagini parlano più di mille parole più di mille parole grazie Lucio come se è buono oggi ciafra calma una birra dopo che dici? birra no sembra un'alcologio bravo buongiorno possiamo disturbarvi come vi trovate? ai mamma mia possiamo? che meraviglia belle bimbe questa è la terza puntata vieni vieni come vi trovate in questa bella Calabria? la Calabria è molto bella però le strutture si lasciano un po' desiderare lei può dire quello che vuole io le dico Calabria lei cosa risponde? bella e poi le strutture dovrebbero no no dica tutto l'accoglienza com'è? rispetto alla Puglia non tantissimo perché io sono pugliese noi siamo molto più calorosi più calorosi cioè che abbracciate? che facendo? no no non certo l'abbraccio no no l'accoglienza qui è un po' distaccata un po' distaccata in questo lito oppure? in generale ecco queste sono cose da segnalare vedete già la differenza con la signora moderiamo cerchiamo di essere di farla venire più accoglienti noi questo questo stiamo facendo questo per sapere le cose che vanno bene o le cose che non vanno bene ecco le cose che vanno bene se le dico Calabria che lei che dice? che pensa? ma io a parte la quale che viene a capo è il secondo anno che che siamo siamo venuti veniamo ben volentieri qua il marito no siamo ah siete insieme no 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 siamo coabitanti nello stesso villaggio lo stesso no perché il il bello è questo ragazzi c'è di ombrellone sì perché poi non lo so magari Giovanni viene qua invece lo figlio di Naccia capite? cioè tutti i bambini vostri no? no 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 ognuno ha fatto i figli suoi no siamo in comunità però andate d'accordo insomma sì sì e le signorine e le signore cortesia sicuramente cortesia ecco questa noi guardate bene cara bene scusa puoi alzare la corda se no il cameraman è già avuto devi abbassare devi abbassare allora ragazzi chi c'è qua? quanti catini quanti bambini ci sono qua? perché? che meraviglia ragazzi e la bellezza la facciamo vedere pure no? la bellezza la facciamo vedere sua moglie eh signora scuso si può alzare complimenti al marito complimenti a lei comunque qui in Calabria eh? sì sì vengo si sta benissimo mare è stupendo e la gente è molto cordiale siamo avete visto quali sono i pareri scordanti la signora dice poca accoglienza invece la signora? no noi abbiamo trovato veramente cordialità ma non cioè non parlo del villaggio ma del calabrese in generale siamo stati al centro di Tropea sono gentili sì siete di? di Napoli di Napoli Giuliano vi posso assicurare che caldo c'è oggi qua? tanto però tutti po' siete tutti troppo infatti adesso andiamo a fare un bagno sì ma se no qua non respirate voglio veramente vi è capitato di cambiare moglie o marito? assolutamente no però io c'è o no ragazzi troppo troppo stretti siete sì ho detto già si fa buono ho detto fa buono no ho detto ho detto sì ho detto allora hai trattato che ci danno un posto eh c'è eh c'è allora un attimo solo come stai? bisogna stare dieci anni dieci quanti anni dieci anni ciao zio come stai? quanti anni hai? 18 vieni scorsa mamma ragazzi guardate qua ma deve essere in camera che devo fare? mamma mia che deve fare hai studiato? studi? sì come ti trovi qua? bene molto bene sei sola solente? sono a fare il bagno i miei genitori e che studi adesso? ho fatto l'estetista adesso devo fare la maturità dove sei? como come? quel ramo come ti trovi qua? molto bene sono sola solente ma hai fidanzato? dove hai fidanzato? e arrivo la settimana prossima vogliamo fare una cosa signora venga a porrelle venga ragazzi allora la signora si sta lamentando la a chi ci vuole bene già riesci a prendere? sì vi dovete allontanare un po' se non parli però te l'ho detto adesso vieni qua ok allora noi diciamo a chi ci vuole bene già a chi ci vuole male a ruprosio ok? lo facciamo? a ruprosio a ruprosio diamo il di dietro insomma a chi ci vuole bene già a chi ci vuole male a ruprosio e questo sì che ragazzi queste me le devi mandare grazie da bene niente sulla spiaggia stesso giorno stesso mano tieni tieni trova Pino Giozzi sulla pagina o poi sulla c giriamo ragazzi andiamo là scendiamo attenzione Lucio grazie ragazzi ma diamo un premio diamo la macchinetta però Antonella viene fattilo poco di immagini grazie ragazzi la cicana 19 signora ecco questo è il bigliettino la cicana 19 tutti i giorni sulla cicana 19 stai bevuta la cosa? no non ce l'ho dopo dopo sto scherzando gli diamo alla signora la macchinetta del caffè del latrone di via Panebianco Cosenza del latrone di red grazie la macchinetta è un bel caffè vabbè venga venite venite grazie a voi ragazzi allora alla signora invece siete stessi non siete vieni qua 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 allontaniamo non è che ci moriamo da un cavolo da un cavolo da un cavolo però possiamo andare sulla spiaggia un pochino signora ragazzi buongiorno come stai? vedete qua vedete qua se no ci moriamo qua vieni qua vedete qua mamma mia oh mamma mia io non parlo guarda che bellezza guarda che bellezza dove è la signora vai qua signora le voglio fare un bel regalo oggi dove siete? Napoli è a Napoli mangiate bene mangiate passate passate la salsa la salsa da anun ecco lei lo assaggi prova d'assaggi io non dico niente poi mi scrive sulla pagina o sulla c o sulla mia pagina e mi dica com'è ah che bel castello ragazzi che meraviglia guarda là e state come state voi in acqua bene io noi siamo com'è questo mare com'è questo mare ragazzi eh ecco loro parlano una sola cioè pulita di più come vi ha accolto la calabria molto molto bene tutti in presa diretti di dove no la provincia di Napoli in altri pescarecci stanno arrivando dov'è fammi va là va là il mare di tutto grazie grazie a lei grazie a lei allora siccome il mare è di tutti noi possiamo possiamo far vedere questo mare d'agosto in calabria buongiorno signore com'è l'acqua è bagnata mi dicono no è brutta si è abbattuta come vi trovate in calabria bene anche col mare però oggi è leggermente meno bella degli altri giorni perché magari si affiora qualche cosina sull'acqua leggermente solo oggi però a me dicono che quelle bollicini a me dicono attenzione che sono agenti atmosferici eh questo non lo sappiamo nemmeno io nemmeno io nemmeno io un ricordo ciao bimbi ragazzi ci sono i ragazzi che vi vogliono salutare venite 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 di dove siete Napoli salutare ecco che se è Napoli che se è Napoli la bellezza di questa ma che una scuola che siete è un villaggio allora la facciamo più su più su più su tutti quanti insieme ragazzi vieni qua quant'anni tiene 10 anni 9 anni allora ragazzi facciamo una cosa che è un rito propiziatorio affinché alle persone antepatici perché ce ne sono persone antepatici noi facciamo più su tutti quanti insieme e lei va bene questo qua più su più su più su va bene allora la pistola no il telefono ragazzi a tre facciamo una prova più su più su e noi più forti vogliamo fare molto ragazzi tutti insieme ah dai tutti insieme dai allora e poi aspetta poi ragazzi tenete qua organizza oh 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 va bene va bene ma che c'è qua questa è il canale di genova non mi farei fare brutta figura venga signore venga 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 tutti insieme da tropea questa squadra di Napoli viva tropea viva tropea ragazzi più su più su a rucu ripetiamo dai ragazzi ripetiamo acce ok più su tutti in zio più su più su più su più su a rucu domani grazie ragazzi eh beh tendiamo di fare anche qualche sono mezzogiorno ragazzi fa un caldo vieni 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 dove siete eh pisa pisa vieni 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 ciao vieni ti voglio bene allora ragazzi venite qua chiudiamo questa scusi scusi ah ma ci abbiamo già visto ragazzi lo vogliamo fare invece un'altra tutto insieme tutto insieme tutto insieme ragazzi fai un po' di immagini fai vedere un po' di immagini fai un po' di immagini la vogliamo rifare tutti con i zio più su più su più su sempre su più su tutti vanno insieme ripetiamolo tutti insieme ragazzi guarda a c'è più più su eh che hai fatto gridate però riscigno più su più su ragazzi ecco quando sono insieme così fai sono tutti guaglioni con il senso più su più su più su sapete gridare sì allora uno più su più su più su più su aroco 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 ma che ciao ragazzi divertitemi buon divertimento siamo sulla C canale 19 ciao ciao sì mi raccomando vi voglio bene ciao 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 belli vi facciamolo insieme tutti quanti ieri vi croccate allora ragazzi stiamo per chiudere quest'altra puntata quando manca tre minuti non so perché ma tu oggi mi sei antipatico non lo so è antipatico il camera forse forse saranno gli occhiali saranno gli occhiali guarda qua che c'è qua ciao ragazzi tutti quanti lo facciamo questo lo facciamo di nuovo quella quella aroprosio facciamo tutti insieme allora a chi ci vuole bene dieci dieci mamma ragazzi a chi ci vuole bene ciao a chi ci vuole male aroprosio pure lei venga 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 a chi ci vuole bene facciamo una prova a chi ci vuole a chi ci vuole bene ciao a chi ci vuole male aroprosio a chi ci vuole male accendo adesso abbiamo capito allora la facciamo mamma ragazza mia ragazzi fate un applauso che diamo a chi ci vuole bene ciao a chi ci vuole male frate mio ciao ragazzi vi voglio bene buon verra cosa a chi l'ha fatto a chi non lo fa tanti auguri per Natale ciao ciao belli ciao grazie ciao ciao allora proseguiamo bella allora Enrico Calabria lei cosa dice che risponde bella perché ci vengono ogni anno quindi se non era bello non ci veniva ma occio o palato qual è la cosa più bella che l'ha tra occio o palato entrambi perché comunque anche il cibo è buono lei fa l'avvocato poliziotto si vede salutiamo tutta la polizia i carabinieri la finanza tutti che fanno un grande lavoro per noi complimenti allora ragazzi ogni giorno alle 15 sulla C canale 19 le do un bigliettino ragazzi fai un po' di immagine ma c'è ancora dove? dammi quella bibita ragazzi questa vale 10 puntate usate questo vale tantissimo siamo nei vieni adesso facciamo un po' di immagine ciao la gente che amare che bellezza dove sei? Roma come state? bene bene in acqua per forza state bene se lo fate un applauso perché si divertono ragazzi perché si divertono in acqua grazie amici e riscignolo andiamo noi vieni scusami lei farà il militare sicuramente guardi a giurata guardi a giurata come si trova qui in Calabria bene bene benissimo ma che ha fatto male? come ha fatto queste cose? un po' un po' lei? di Topea di Topea no di Napoli no perché sta così? perché ho freddo perché freddo la tira una freddo quasi no stano ti ho laminato stano no mamma non vuole mamma non vuole ciao allora ragazzi come on baby please lascia stare il bagnino vieni qua vieni qua vieni qua hai fatto un bel lavoro oi co i film e i film i film e ne chiamone vieni qua un saluto ragazzi tu fai salutare vieni qua che ti affaccio che gli dobbiamo dare abbiamo finito come abbiamo finito come come premio la terza puntata aspettiamo Marano aspettiamo tutti che ti affaccio che non vieni con me che ti affaccio e le parabregone con tutti quei capelli c'è caldo tagliatelo se capì ragazzi come state bene grazie che mangiate oggi di tutto ci avrei scommesso di tutto ciao quanto amore fantastici che meraviglia dove sei tu? ciao di Roma sono di Roma ma sei il calabrese qualche amico qualche parente qualche parente no non c'ho nessuno grandissimi ciao siamo i numeri uno fantastici che meraviglia a per agosto fammi i botti quasi i numeri uno i botti e poi facciamoci divertire i botti con Gigliotto come si chiama lei? Gigliotto come si chiama? Pino Pino grande Pino ti voglio bene ciao ragazzi guarda qua te lo rifanno guarda bene mi chiamo Gigliotto Davvero? allora Gigliotto io mi chiamo Gigliotto Giuseppe io proprio Pino Gigliotto no non ci credo è vero e dove sei? La Mezzia ma siamo pareti no? Gigliotti in Calabria Gigliotti Gigliotti nel mondo Pino Gigliotti è un omone che meraviglia come è stata che lavoro fai? lavoro alla fondazione Terina mamma ragazzi che è faticata oggi si muore per entrare o mi che è simpatico voglio provare Gigliotti lui la mamma è Gigliotti la mamma è Gigliotti lei è di Cremona i Gigliotti nel mondo ragazzi sono simpatici numero uno numero uno ragazzi allora se vi è piaciuta la puntata guardate velo se non vi è piaciuto guardate velo lo stesso ciao con questa chiudiamo a domani ciao ragazzi ciao 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 Grazie.